Si svolgerà oggi e domani in piazza Vittorio Veneto con inizio alle ore 21 la seconda edizione del Festival Voci Nuove per Giungano. Durante le audizioni tenutesi gratuitamente il 1 luglio sono stati selezionati per la categoria 6 e 13 anni 11 giovanissimi. Per quanto riguarda invece la categoria grandi sono state selezionate 17 persone, tra cui anche alcune over 60. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Giungano Ora con il Patrocino del Comune, sarà presentata da Maria De Lucia, consigliera comunale conosciuta nel campo musicale con il nome d'arte d'aria. La De Lucia curerà inoltre la direzione artistica dell'evento insieme a Diago Melò, cantante che in passato ha partecipato alla trasmissione di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Presidente della giuria sarà invece l'insegnante di canto Nunzia Germano. Si occuperà delle coreografie e l'associazione sportiva direttandistica Terri Dense di Agropoli. A cornice della manifestazione ci sarà l'esibizione di ballo del maestro Nicola Di Fiore. A tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia. I vincitori delle due categorie verranno premiati con l'incisione di una cover presso uno studio di registrazione professionale. Secondi e terzi classificati riceveranno invece una coppa. Le due serate saranno allietate da vari concerti, tra cui quello del duo Elio e Anna Postiglione, sax e voce, quello del gruppo corale The Pop Voice, nonché dalle esibizioni degli stessi Diago Melò e Daria. Sono molto soddisfatta del numero di persone che hanno sostenuto le audizioni, afferma la consigliere cantante. Eventi del genere sono molto importanti per la promozione del nostro paese, soprattutto se svolti nel periodo estivo, grazie all'arrivo nel cilento di turisti provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da paesi esteri.